Ciao a tutti amici e ben ritrovati in questo nuovo video, mi vedrete con la stessa maglietta del video precedente ma proprio perché li sto realizzando in serie. In questo video voglio andarvi a presentare un progettino software che serve per andare a riorganizzare e ordinare le cartelle del file system del vostro computer. In realtà mi vado a ispirare a un video vecchio, non mi ricordo credo di 7-8 anni fa che avevo fatto proprio mentre stavo studiando informatica all'università un programmino con tutti i suoi limiti e tra l'altro era scritto in python e il codice l'avevo addirittura pushato su google drive infatti ci sono degli utenti che hanno cercato di accederci però in realtà è un codice non più disponibile scritto in python 2 e insomma con tutti i suoi limiti. Quindi ho cercato di cogliere la palla al balzo e l'ho riscritto però con un altro linguaggio di programmazione che è Haskell e l'ho fatto più che altro come mio esercizio personale per iniziare a prendere più confidenza con questo linguaggio di programmazione ma anche per realizzare qualcosa che magari potrebbe essere utile per voi. Non vi andrò a spiegare linea per linea il codice proprio perché Haskell è un linguaggio un po' poco conosciuto ci sono comunque concetti complessi che richiedono un sacco di altri prerequisiti per la comprensione corretta quindi più che altro cercherò di spiegarvi come andare a effettuare il download, come compilare il codice e come andarlo a eseguire sulla vostra macchina nel senso se vi interessasse appunto eseguirlo come utility. Apro una piccola parentesi perché nel caso siate curiosi di imparare Haskell da zero vi consiglio un canale che io ho trovato veramente utilissimo che si chiama ImparaHaskell e mettilo da parte e appunto vi fornirà più o meno tutti i requisiti che sono contenuti nel codice che vado a illustrarvi in modo da non dover replicare contenuti due volte quando c'è già una persona che li ha fatti in modo davvero ottimo. Vediamo come eseguire il codice di cui vi ho accennato poco fa. Intanto vedete l'account di GitLab che ho appena aperto nel quale ho realizzato tre repository, uno è per vedere il codice di oggi l'altro invece ho realizzato anche un repository dedicato a YouTube che non fa altro che replicare tutto il codice sorgente che avevo prima salvato su Bitbucket l'ho riorganizzato in modo diverso quindi praticamente sarà una folder associato a ogni video che ho organizzato con un rapporto 1-1. Comunque non andiamo a cambiare discorso e apriamo il repository sorting bot. Quindi per eseguirlo non facciamo altro che eseguire la clone del repository in questione quindi apriamo il nostro terminale con installato git ovviamente ci posizioniamo nella cartella, nel mio caso codice sorgente, sono già dentro voi ovviamente vi potete posizionare nella cartella che preferite quindi git clone indirizzo da repository e vado a clonarlo quindi non faccio altro che andarmi a posizionare dentro la cartella e a questo punto tutte le istruzioni per l'esecuzione le ho già riportate nel file .readme lo potete leggere tranquillamente direttamente da GitHub quindi per macOS e Linux è sicuramente facile diciamo che lo step più complesso di questa operazione è andare a installare Kabbal che non è nient'altro che il package manager di Haskell con Linux è molto facile con Mac prevede l'installazione propedeutica di Briu comunque tutte le istruzioni le ho riportate qua dentro per Linux non ho testato questa parte è leggermente un po' più complesso perché o si va a scaricare i binari di Kabbal direttamente dalla pagina di download cosa che non ho ancora provato a fare oppure si va a installare il WSL quindi una versione di Ubuntu direttamente tramite Windows e quindi si va poi a ripercorrere il punto B comunque noi adesso siamo al punto di aver clonato i repository ci siamo posizionati dentro la cartella delle repository e a questo punto non facciamo altro che andare a lanciare Kabbal install facendolo lui si andrà a leggere il codice sorgente e andrà a produrre un eseguibile che in questo caso è dentro questa cartella apriamolo qua per maggiore comodità e potete vedere che c'è l'eseguibile sorting bot a questo punto potete fare una piccola magia per eseguirlo direttamente da terminale cosa bisogna fare? bisogna aggiungere alle variabili di ambiente questa folder qua dei binari di Kabbal io naturalmente ve lo faccio vedere per Mac per Linux è equivalente per Windows invece la procedura è diversa ovviamente quindi basterà andarsi a posizionare nella home vi faccio vedere quindi apriamo l'editor e dovrebbe essere punto z sh rc e come vedete ho esportato nelle variabili di ambiente ogni volta che si apre il terminale la cartella dove è presente appunto l'eseguibile sorting bot quindi ci riportiamo qua dentro quindi se io vado a scrivere sorting bot meno h mi fa vedere quali sono le opzioni disponibili che ho impostato e quali sono i tre modi differenti per andare a eseguire questo programma ora vi faccio vedere un esempio di esecuzione ho preparato una cartella di test apriamola vedete che è una cartella l'ho cercato di creare il più disordinata possibile non è neanche molto distante dalla realtà dello stato del mio computer quindi abbiamo una serie di directory una serie di immagini eseguibili video e chi più ne ha più ne metta quindi cosa facciamo allora sorting bot dà a disposizione tre opzioni la prima consiste nell'appiattire il file system tree la seconda permette di appiattire e ordinare la terza invece permette di raggruppare dei file che racchiudono un certo pattern quindi andiamo a vedere prima andiamo semplicemente ad appiattire il file system tree per farvi vedere qui naturalmente dentro image ci sono delle immagini dentro bin ci sono altri eseguibili e così via quindi per appiattire cosa andiamo a fare chiamiamo sorting bot meno f che sta per flat e poi gli dobbiamo dare la directory eseguiamolo ci chiede se siamo sicuri ovviamente se non siamo sicuri digitiamo un qualunque tipo di carattere perché naturalmente se noi eseguiamo quest'operazione di appiattimento in una cartella di sistema o in una cartella di cui ci siamo sbagliati insomma possiamo fare dei danni al nostro computer potenzialmente comunque ritorniamo gli diamo yes e a questo punto come potete vedere lui cosa ha fatto è entrato dentro ricorsivamente in ciascuna cartella e ha estratto i file che erano presenti in quella cartella stessa e quindi ha posizionato tutto dentro all'interno della stessa root questo naturalmente non va a ordinare particolarmente però era per fornirvi un esempio di questa funzionalità quindi quello che voglio fare adesso è più o meno ricostruire una situazione quasi analoga alla precedente ecco qua ho creato due cartelle e andiamo a ripetere l'operazione però di ordinamento per farvi vedere in cosa consiste quindi al posto di F andiamo a dare il comando meno O maiuscolo siamo sempre sicuri yes e come potete vedere adesso la situazione è leggermente diversa perché per ciascun tipo di estensione sono stati raggruppati i file nella directory dedicata quindi abbiamo una cartella delle immagini una cartella con tutti gli zip con tutti i vari documenti eccetera 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 ora andiamo a vedere invece l'ultima opzione che è quella di raggruppamento non me lo ricordo più neanch'io a memoria come fare però per ricordarcelo basterà fare sorting bot meno help quindi per chiamare il raggruppamento non dobbiamo fare altro che chiamare sorting bot con la G maiuscola dare una folder name la solita root path e poi la stringa che dovrà matchare con i file quindi facciamolo quindi sorting bot qui tra l'altro c'è un errore è rimasto un cabal run dovrebbe esserci solo sorting bot ma questo lo andrò a correggere quindi sorting bot abbiamo detto meno G e gli diamo una folder name e lo chiamo parapendio ad esempio quindi la root path in questo caso è questa qua e come substring gli diamo un qualcosa che matchi con tutte le immagini che vogliamo rappresentare in questo caso vediamo che c'è un G0 almeno credo che sia uno 0 e non una O ma questo lo andremo a scoprire anzi proviamo prima con G O e vediamo cosa succede ci chiede sempre siamo sicuri gli diamo invio e in questo caso abbiamo detto era uno 0 quindi se facciamo G0 perché vedete che non ha raggruppato praticamente nulla siamo sicuri mentre registravo il video mi sono accorto che mancava una certa gestione degli errori che ho aggiunto nel frattempo e quindi siamo pronti per andare a raggruppare i file quindi l'istruzione non è nient'altro che questa quindi parametro G per group R va a indicare la root in questo caso la possiamo riscrivere da 0 che è decisamente meglio intanto vi voglio far notare che ovviamente se si scrive un'istruzione incompleta viene sollevato comunque un errore quindi abbiamo detto sortingbot meno G meno R gli andiamo a dare il path dove sono contenute le immagini poi una folder name quindi F e la chiamiamo ad esempio parapendio e a questo punto gli manca l'ultimo parametro che è la substring S e in questo caso è G0 quindi diamo invio yes e come potete vedere ci va a indicare che tutti i file sono stati trasferiti nella directory apposita se invece volessimo andare velocemente a vedere il codice sorgente ve lo apro con visual studio non abbiamo altro che un main file che si occupa insomma di gestire i messaggi di di help e poi va a fare il parsing degli argomenti che gli andiamo a passare e una volta che questi argomenti sono stati parsati e codificati allora si vanno a chiamare le funzioni che sono definite nella folder directory tools quindi in questo caso qui viene gestita ad esempio la logica di creazioni delle directory dove vengono raggruppati per tipo di estensione di file in questo caso sarebbe una cosa intelligente probabilmente generare un file esterno dove dinamicamente l'utente può andare a definire il suo mapping invece che farlo diciamo hardcoded nel codice per adesso è stata una scelta più che altro vi ripeto questo è stato un esercizio più che qualcosa che insomma debba essere distribuito a livello enterprise comunque se mi avete seguito fin qui vi ringrazio per l'ascolto e ci vediamo nei prossimi video grazie a tutti ciao ciao